Musica Io sono particolarmente emozionato per vari motivi il primo di tutti è che è l'ultimo concerto per quest'anno il secondo è perché ho fortemente voluto che questa serata avesse come protagonista un amico di bellissima data un musicista che ha affrontato nella sua vita tutti i generi musicali partendo dall'essere un eccezionale contrabassista fino ad arrivare ad essere un compositore conteso e acclamato per cui questa sera qui con noi ci sarà Ezio Bosso Ciao! Allora finalmente suono coi fratelli Romano l'ho atteso per molto tempo però ogni concerto ho deciso in questa parte della mia vita di aprirlo perché per non essere in una stanza dobbiamo partire da fuori e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.